Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Iron Man, uscita numero 91, questa meravigliosa armatura, meravigliosa armatura e che dire ragazzi, voi che l'avete acquistata come me, della base premium, la ciliegina sulla torta insieme anche ai fascicoli. Allora, sono in ritardo, lo so, ma come vi ho già spiegato nel video precedente, non dipende da me, molti di voi mi hanno scritto privatamente o sul canale stesso, appunto chiedendomi se anche a me era successo di essere in ritardo con le uscite. Sì, come potete vedere, dovrei essere qui a farvi vedere la 93 e invece siamo indietro di due. Ma ragazzi, ma non ci preoccupiamo, tanto la stiamo finendo. Poi chi vorrà acquisterà anche le 20 uscite successive dell'armatura danneggiata. Ok ragazzi, allora andiamo a vedere subito questo numero 91, guardate che copertina, che connubio di colori, bellissimo. Ecco qui. In questa uscita assemblerai i componenti della schiena relativi alla sezione addominale che comprendono parte del meccanismo che consentirà di scambiarla con gli elementi equivalenti. Quindi questo sarà una opzione, una cosa addizionale, come appunto ci dicono, che a seconda di quello che noi sceglieremo come posizione per il nostro bellissimo Iron Man dovremmo aggiungerla o toglierla o addirittura non metterla proprio. Allora c'è solo uno, due e tre cose piccoline come potete vedere, quindi ci eviterei a leggervi tutto quello che c'è scritto qui. Ovviamente poi passeremo all'apertura e al contenuto del fascicolo e all'apertura dei pezzi. I pezzi che hai ricevuto con questa uscita formano parte del meccanismo che collega le anche all'addome mediante il pulsante posizionato nella zona lombare. Questo qui con le molle. Colloca il pulsante di collegamento con le anche all'interno della corazza lombare orientando i componenti come mostrato. Qui poi ci dice di installare le due molle sui perni. Poi, infine, la corazza lombare e il pulsante di collegamento con le anche sono pronti per essere unite al gruppo della sezione addominale. Bene, andiamo ad aprire il contenuto del fascico numero 91. All'interno troviamo una serie di viti GP, ma secondo me sono enormi per i fori dedicati ma lo vedremo dopo. Che bel pezzo plastica non ci sono problemi tenete presente che se fosse tutto metallo quando andate ad attaccare a staccare gli elementi la vernice salterebbe tutta. Poi abbiamo, allora, questo che è la corazza lombare, ecco qui. Abbiamo il pulsante di collegamento con le anche, verniciato benissimo, il supporto delle molle e le due molle. Perfetto. Prima cosa da fare ci dicono che dobbiamo andare a mettere questo che terrà poi le due molle per consentire poi lo sgancio e l'aggancio appunto del supporto lombare e di andare a mettere due viti GP. Andiamo a crearci il filetto con le viti GP. No, 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 ragazzi, non ci penso proprio. Voi il vostro modello fate quello che volete, provate se non siete d'accordo con me, ma questo assolutamente non le metto, a mio parere hanno esagerato, sono troppo grosse, provate voi se avete voglia, vedrete che si spaccherà la plastica tutta qua lungo la linea. Allora, un attimo solo che guardiamo delle viti compatibili, ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi, viti compatibili più piccole che vanno decisamente meglio e non vi porteranno alcun danno. LP, ne avete tante sicuramente. cercavo di farvi vedere la lettera L e la lettera P, eccole qui. E' chiaro che non siete assolutamente tenuti a fare quello che fa Michele. Va bene ragazzi, però vi garantisco che Michele non parla giusto per parlare. Quindi al posto delle GP Michele metterà due viti LP. Eccole le sue, perfetto. Andiamo a crearci il filetto da una parte e dall'altra, senza assolutamente aggiungere né olio né svito né grassi. Ricordatevelo, nelle plastiche ragazzi non va mai messo alcun lubrificante, ricordatevelo. Ve l'ho già spiegato il perché e quindi non ve lo spiegherò nuovamente. Perfetto. Prendiamo il pulsante di collegamento delle anche, lo posizioniamo in questa maniera, controlliamo che sia libero di scorrere e lo è. Perfetto. Andiamo a mettere le due viti che ho sostituito LP invece delle GP. Ripeto ragazzi, l'armatura è vostra, fate quello che volete e ci mancherebbe. Io faccio quello che è meglio per la mia. Una molla. Ecco la seconda. Perfetto. Andiamo a mettere i due perni ovviamente dentro le molle. Ecco qui. Non avvitatela tutta subito, poi vi farò vedere il perché. Il supporto delle molle sotto ha un cerchio che deve inserirsi ovviamente nei perni, quindi voi l'avvitate e poi fate questo lavoro qui, destra e sinistra. Vedete? E tenete premuto e poi avvitate. Uno e due. Perfetto. Ragazzi vi garantisco che le viti LP sono più che sufficienti e non vi rompono le plastiche. Poi comunque fatemi sapere nei commenti, mi raccomando. Controlliamo che tutto funzioni. Non schiacciate forte di qua perché ovviamente adesso tenderà a uscire perché non c'è ancora nessun fermo. Però l'importante è che faccia questo lavoro. A questo punto il montaggio è finito. Finito. Eccolo qui. Andiamo adesso a prendere il pezzo per vedere più nel dettaglio cosa siamo andati a montare. Come potete vedere questo è quello che che abbiamo montato nell'uscita numero 91 che va messo poi in questa posizione. ve lo faccio solo vedere ragazzi perché non va ancora montato. Quindi i perni rossi uno e due in plastica devono entrare in quelli di metallo corrispondenti. Stessa cosa di qua e poi premete. quando vedete che qui la parte nera tocca la parte in plastica rossa e la stessa cosa di qua siete a posto. Ma è giusto per farvi vedere che cosa siamo andati a montare. Ecco qui. Guardate. guardate che meraviglia. Ma chi è che dice che non è bella questa armatura ragazzi? Ma chi lo dice? Chi non ce l'ha? E nemmeno e nemmeno perché chissà quanti ragazzi non hanno potuto farla avrebbero voluto. Ok ragazzi. Me la volevo solo far vedere meglio. Guardate come combacia tutto bene. Le linee come sono perfette. Gli spazi. Guardate anche qua. Sopra. Vedete? Guardate quella linea. Perfetta. queste le dovete fare prima queste prove. Se dovete poi intervenire per qualche piccola modifica la potete fare. Ecco qua. Vedete? Perfetto. Quanto pesa questo pezzo ragazzi. Andiamo a sganciare il pulsante. Ovviamente premiamo qua perché questo servirà poi per un'altra cosa. E andiamo a sganciare tutto. Ecco qua. Perfetto. Ecco qui ragazzi. Pezzo numero 91 terminato. Mi raccomando ragazzi non dimenticatevi se avete piacere di iscrivervi. Ma perché non dovreste aver piacere di iscrivervi al canale di Michele Armonica ragazzi? Ma perché? Grazie ragazzi per gli iscritti. Grazie per quelli che decideranno di iscriversi al mio canale. Ricordatevi che c'è una playlist. Ci sono altri modelli che sto montando. Altri ne arriveranno in futuro. Se contribuirete con le vostre iscrizioni ad alimentare il canale. Perché ricordatevi che Michele può quello che può. Ma la vita del canale siete solo voi iscritti. Voi iscritti. Siamo a 975 come numero di iscritti. Me ne mancano 25 a arrivare a 1000. E poi ragazzi vediamo come andrà il canale. Va bene. Adesso io saluto quelli che decideranno di terminare qui il video. Spero pochi. Saluto voi e tutti i vostri cari più cari e vi ringrazio e ricordo anche a tutti che ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue per permettere a chiunque di comprendere anche ciò che dico e non soltanto di guardare le immagini. Adesso andiamo a fare la seconda e ultima parte di questo video così da potervi consentire se avete piacere di leggere tutto quello che è scritto all'interno dei fascicoli. in questo caso del numero 91. Un'ultima cosa che vi devo dire e mi stavo dimenticando meno male che non mi sono dimenticato. Fate attenzione a questo ragazzi. Guardate. Questo pezzo qua sia il sinistro che il destro in acciaio. Ok? Aspettate che cerco di farvelo vedere meglio. Ecco qua. Questo. L'ultima falange d'acciaio destra e sinistra. Alziamo un po'. Una e due. Va poi ovviamente in chiusura a battere contro la parte dorata. Ecco. Fate attenzione perché è obbligatoriamente necessario farlo. E poi vi spiego il perché. Questo lavoro qui. Cioè andare a consumare la lavorazione che sentite. Tipo un coltello che taglia contro la contro pelo. Quindi andate a fare questo lavoro qui. Leggeri leggeri. Ovvio. Tenetelo fermo che non gravi qua sul fulcro. Perché se no. Perché altrimenti potrebbe rompersi. Poi controllate che sia tutto liscio di qua e di qua. Che non ci siano scalini. Perché questi scalini vi segneranno irrimediabilmente la vernice quando sarà imbattuta. Ve lo garantisco. Quando fate questo lavoro. Ok? Invece essendo liscio non potrà creare alcun danno alla doratura. Va bene ragazzi? Ok. Adesso andiamo subito a fare la seconda parte del video dove appunto farò vedere tutto quello che è contenuto in questo fascicolo. Questo è il numero 91 terminato. Ci vediamo dopo ragazzi. Ed eccoci di nuovo qui per la seconda e ultima parte di questo video numero 91 di Iron Man. Questa splendida armatura in metallo e plastica in scala 1 a 3 Marvel della De Agostini. Andiamo a vedere adesso i contenuti scritti all'interno di questo fascicolo numero 91. La prima pagina servizi e numeri utili. Buona lettura ragazzi. Sapete che in biblioteca non si deve fiatare. Però non dimenticatevi di iscrivervi al canale di Michele e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Mi raccomando non guardatemi soltanto e poi vi dimenticate l'iscrizione. Ok ragazzi? Grazie a tutti. ecco qui qua vedete la parte frontale e posteriore in 3D che vi fa appunto vedere quello che vi ho fatto vedere prima io direttamente sul modello dove andrà appunto a essere collocata la parte che abbiamo appena montato. Siamo arrivati a pagina 9 a presto. Siamo arrivati a pagina 10 minuti. Abbiamo quasi finito come dico altre volte nella speranza che non ci sia solo Michele, a guardare questa ultima parte del video. Beh ragazzi non credo che uno si possa annoiare se non ha il fascicolo ovviamente e abbia desiderio di leggere con il fermo immagine perché comunque chi ama queste armature e questo mondo una lettura tutta a più che piacere nel darla. Ecco qui ragazzi ultima pagina di copertina. Nella prossima uscita costruisci la terza parte dell'addome. eccolo qua. A posto. Michele vi ringrazia del vostro tempo. Andiamo a prendere il pezzo montato che è questo qui. Michele vi ringrazia del vostro tempo. Vi ringrazia se deciderete di iscrivervi al suo canale. Ragazzi se avete piacere di condividere nei gruppi dedicati i miei video ma io non posso che essere ancora più contento. Michele vi saluta, vi ringrazia come vi ho detto e ve lo dico con tutto il mio cuore del vostro tempo, vi ringrazia del vostro sostegno, del vostro supporto, vi ringrazia dei commenti che mi scrivete, dei consigli che mi date per migliorarmi. Mi raccomando ragazzi non mancate mai da scrivermi consigli costruttivi. Anche un semplice saluto che non è semplice a me fa piacere. E ovvio io vi rispondo non appena mi accorgo di aver visto il commento e non sempre accade. Non riesco mai a chiudere i filmati ma impareremo anche questo dai ragazzi. Io vi prometto e prometto a me stesso che migliorerò i miei video. Appena potrò lo farò sicuramente, metterò delle sigle, farò dei video editing, farò delle icone con sottoscrivi il canale, subscribe come si dice in inglese ma io dico iscriversi anche, no? Siamo italiani. Però adesso tutto questo non sono ancora in grado di farlo. Un abbraccio a tutti ragazzi. Grazie del vostro tempo. Vi auguro un sereno sabato. Arrivederci al prossimo video. Ciao